io la bt la definirei come una delle tantissime vie verso la verità che poi è sempre la stessa solo che io dei maestri della non dualità ne ho conosciuti ne ho seguiti abbastanza ma che poi sono stati loro stessi a condurmi verso questa a trovare la bt a trovare questa strada qua solo che a differenza di loro la bt mi ha dato proprio il conforto per il cervello in qualche modo la modalità per capire per la mente umana che cos'è la non dualità che cos'è tutto il mondo non materiale attraverso attraverso le mappe attraverso le esperienze sì come se avesse aggiunto i puntini come se avesse messo la teoria in pratica perché io faccio sempre facevo tanta fatica a percepire è tutta la teoria che conosciamo tutti benissimo però come come la metto in pratica che cos'è veramente quella cosa di cui mi stai parlando e io lo so lo percepisco la 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 l'ho studiata tutti tutti che mi parlano e dicono la stessa cosa allora ci dovrebbe essere dovrebbe essere una cosa vera perché non è una persona sola che mi dice questo come ci arrivo lo so ormai la teoria no ma come ci arrivo e per me la vita è stata questa e fino anche adesso la facilitazione per la mente per arrivare c'è un livello anche per personale in senso che comunque anch'io sento di aver trovato una via con delle persone che che posso considerare la mia la mia famiglia per me è stato un viaggio anche molto ampio anche a livello culturale a livello di tradizioni molto ampio che che mi hanno che mi ha aiutato ad uscire dagli schemi che mi portavo dietro dalla mia cultura dalla mia del mio paese si mi ha portato questa apertura verso l'altro verso diverso curiosità mi ha portato a capire che non c'è solo un modo di vedere una cosa non c'è solo il mio modo di capire una cosa mi ha fatto proprio esplorare quel campo di diversità no che il mondo è bello perché è vario perché tutti siamo stiamo stiamo tutti siamo unici e stiamo stando insieme possiamo condividere imparare insegnare uno con l'altro no c'è tutto sto tutto sto scambio e per cui mi ha portato anche tanta apertura e poi giustamente anche qualche qualche tempo fa sono nell'ultimo seminario a milano mi sono resa conto quanto quanto veramente sono una persona diversa da quando ero arrivata alla bte sento che la bte mi ha aiutato a liberarmi